Tra poco più di un'ora presso la sedere l'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Palermo prenderà il via un incontro sul ruolo del professionista nel rapporto fisco-contribuente. Un tema che ad ampio spettro interessa tutti, ma proprio tutti, dai cittadini alle istituzioni passando per chi è esperto di contabilità e finanza tributaria. Un tema che mai come quest'anno con le tredicesime per chi le ha avute vaporizzate per pagare tasse e scadenze fiscali è un tema veramente caldo. Noi ne parliamo con il nostro ospite, grazie per essere con noi, professore Angelo Cuva, vicepresidente dell'Unione Nazionale Camera Avvocati Tributaristi e docente di diritto tributario presso l'Università di Palermo. Un tema caldo lo abbiamo definito perché mai come in questo dicembre per il sovrapporsi di diverse scadenze relative ad esempio ai tributi locali la pressione fiscale è stata veramente evidente e pesante. Come si può fare per far sì che i tributi possano essere pagati e su questo non ci piove, però in maniera decisamente più serena da parte del contribuente? Questo passa sicuramente da una revisione della tecnica legislativa che fino ad oggi è stata una tecnica legislativa a cascata, a getto continuo, per cui il contribuente non è messo in condizione di pianificare preventivamente quello che è il peso tributario che deve essere sostenuto sia in termini di tributi erariali ma anche di tributi locali. L'esempio di questa vicenda della Tares e dei terzi tributi che poi sono stati ipotizzati che si devono pagare quasi calcolandoli alla fine del periodo d'imposta è un esempio evidente. Per cui c'è un'esigenza sicuramente di una revisione della tecnica legislativa, così come è previsto in questa delega fiscale che speriamo e ospitiamo arrivi finalmente in porto, ma certamente c'è anche poi una necessità di incidere sui livelli di pressione fiscale perché la pressione fiscale in Italia come risulta dai dati di Banca d'Italia recentissimi nel 2013 è arrivata ad una percentuale del 44% rispetto al PIL e questo significa che il famoso giorno del cosiddetto Tax Feed on Day della liberazione fiscale arriva a giugno, significa che fino a quella data il contribuente lavora per lo Stato. 44% però poi noi sappiamo che nella realtà dei fatti il livello si alza ancora di più. Sì, hai ragione, nel senso che se questo dato viene rimodulato e viene analizzato come è stato fatto da alcuni centri studi, in particolare riferisco al centro studi molto attivo di Mestre, questo dato si ampia e arriviamo ad una pressione fiscale reale che viene stimata addirittura oltre il 53%, circa il 54% perché è giusto sotto il profilo economico scorporare da quel dato del PIL l'economia sommersa, l'economia legale e quindi a quel punto siccome è un rapporto evidentemente una frazione, la pressione fiscale reale raggiunge il 54% che è sicuramente un livello di soglia non tollerabile che genera evidentemente fenomeni di reazione che si vanno a manifestare anche attraverso comportamenti elusive e evasivi che non sono assolutamente, non devono essere legittimati ma che vanno chiaramente spiegati anche in una logica economica. Quali sono le proposte che ad esempio dall'incontro di questo pomeriggio qui a Palermo voi valuterete e avanzerete? Sì, oggi l'incontro è dedicato a questo rapporto che è fondamentale fra amministrazione finanziaria e i soggetti di quello che è lo scenario fiscale, quindi ordini di dottori commercialisti, ordini degli avvocati, Unione Camera e Avvocati Tributeristi che io rappresento che intanto si sono riuniti in un protocollo di intesa che è stato stipulato nel 2013 sull'istituto del reclamo e mediazione che è un istituto deflattivo volto a cercare di prevenire e anticipare il contenzioso e questo è pure un aspetto importante ma con questa occasione si è anche istituito un tavolo tecnico di confronto costante fra gli ordini professionali che devono tutelare gli interessi dei contribuenti e l'agenzia delle entrate per cercare di interpretare prima insieme alcune di quelle che sono le norme più difficili che possono poi dare luogo a un contenzioso quindi per prevenire e per evitare che si debba necessariamente adire alla giustizia tributaria che è un costo e che a volte non è facilmente sostenibile dal contribuente in quelle che sono le condizioni a tutti note di recessione economica. Possiamo dire quindi che si va verso un rapporto ancora più stretto, probabilmente più limpido e lineare tra il cittadino contribuente e le varie realtà, insomma il cittadino anziché non sapere dove andare a parare avrà dei riferimenti certi. Questo è l'auspicio, devo dire che a livello locale c'è una grande sensibilità da parte dell'agenzia delle entrate, della guerra di finanza, ad un colloquio e a realizzare chiaramente nelle forme istituzionali dei tavoli di confronto. Noi anzi oggi leggeremo l'idea di ampliare quello che è un po' l'arrazio di questo protocollo che già vede un confronto chiaramente focalizzato all'istituto e all'applicazione della mediazione del reclamo, ampliarlo ad un confronto più ampio in cui secondo me sarebbe opportuno che sia presente anche la Guardia di Finanza, gli ordini professionali, l'agenzia delle entrate per cercare di trovare soluzioni interpretative, condivise, preventive e quindi prevenire in questo senso le emissioni di atti che poi una volta che vengono notificati creano sicuramente un danno o comunque un pregiudizio nel contribuente. Quest'ottica della collaborazione favorirebbe anche quella tax compliance a cui questo protocollo tende, ma una tax compliance, un'adesione spontanea al contribuente non può prescindere da un rapporto chiaro, trasparente con l'amministrazione finanziaria e ripeto da un abbassamento significativo della pressione fiscale che è il dato imprescindibile su cui spero il Governo possa impegnarsi con i futuri provvedimenti. Vedremo allora quali passi saranno compiuti, grazie intanto per essere stato nostro ospite, il tema è veramente caldo e riguarda tutti, nessuno escluso, perché questo ripetiamo professore come messaggio, la corrisponzione tributaria appartiene a tutti i cittadini, un servizio non può arrivare se non viene corrisposto. Il principio della capacità contributiva è il principio fondamentale della nostra Costituzione che per fruire dei servizi bisogna contribuire, però deve essere una contribuzione ispirata ispirata ai principi di equità e questo è quello a cui dobbiamo tendere. Su questo torneremo, credo, a incontrarci. Grazie ancora e buon lavoro per questo pomeriggio.